Vedremo in questo video un esempio di ricerca fatta in PubMed sul seguente argomento. I nutraceutici possono rallentare la progressione del morbo di Parkinson? Cominciamo ad individuare i concetti base della ricerca. La malattia di Parkinson, vista sotto l'aspetto della prevenzione e della terapia mediante dieta o comunque supplementi all'alimentazione, e i nutraceutici. In questo caso bisognerà stare molto attenti ai sinonimi. Andiamo in PubMed. In PubMed dovremo cominciare la ricerca dal Mesh Database per individuare i termini migliori da utilizzare. La terapia di Parkinson viene veravista sotto l'aspetto della terapia mediante dieta e della prevenzione e controllo. Individuati questi termini, inviamo il termine alla search box. Proviamo ora a cercare i nutraceutici. Vediamo che il termine nutraceutical viene riportato a dietary supplements. In questo caso il termine dietary supplements comprende tutti questi sinonimi. Potremmo quindi evitare di cercare contemporaneamente con tutti questi sinonimi. Questo termine comprende anche queste sottocategorie. Lo esploderemo quindi per comprendere tutte queste categorie. Aggiungiamo quindi il termine alla search box con il booleano AND e lanciamo la ricerca in PubMed. Abbiamo trovato 28 risultati che possono essere ulteriormente filtrati. Possiamo provare ad ampliare questa ricerca senza utilizzare i termini mesh per comprendere quindi anche quei record nuovissimi che ancora non sono stati completati con i termini mesh. Andiamo in ricerca avanzata e riinseriamo in tutti i campi i termini che avevamo individuato precedentemente. La ricerca è sicuramente più ampia e andrà quindi filtrata prendendo in considerazione per esempio solo gli articoli recenti. In questo caso troveremo sicuramente risultati che non sono stati individuati con la ricerca precedente anche se la ricerca può essere più faticosa da gestire essendo più corposa. Si può fare anche un altro tentativo. Sempre nella ricerca avanzata possiamo inserire la terapia di Parkinson insieme alle vitamine. In questo caso otterremo una ricerca anche qui molto corposa che può essere ulteriormente filtrata sicuramente meno specifica ma che potrebbe contenere risultati interessanti.